ma luigi non è capace di cambiare le gomme da solo ora ti mostro un paio di cose torna qui ora ti mostro un paio di cose mi piace che sia andata così passi è come vilo su, torna qui Grazie a tutti. Come sono le altre macchine da corsa? Fatevi sotto, io sono pronto! Ma non devo farlo mai più! Ora ti mostro un paio di cose! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!